Carissimo precario, la voglia di scriverti mi deriva dalla considerazione della tua ingratitudine. In fondo, tu sei il vero eroe del nostro tempo e i precari, che oggi dilagano in ogni segmento del mondo produttivo, sembrano viceversa non accorgersi di questa centralità. La precarietà è un contesto globale, la precarietà è un destino, la precarietà ha sostituito il sol dell'avvenire. Quindi, in qualche maniera, un precario, e te precario, dovrebbe provare una certa soddisfazione per questo essere una classe generale, come si sarebbe detto in altre epoche. In particolar modo, la tua ingratitudine oggi rischia addirittura di rappresentare un granello di sabbia che può inceppare il meccanismo del governo. Il ministro Gelmini, che pensa di poter fare una riforma degli apparati produttivi fatta con i tagli, fatta tagliando, fatta recidendo, fatta disinvestendo, si trova oggi nel tentativo di mettere una toppa a quel dolore acutissimo, a quel buco violentissimo che si sta creando nel sistema universitario. La toppa era un emendamento salva precari, ma la Gelmini anche questa volta non aveva fatto i conti con il ministro Tremonti. La norma salva precari è incompatibile con il modello di compatibilità economico-finanziare che ha il governo Berlusconi. E quindi l'università si deve beccare una riforma epocale fatta di meno un miliardo e quattrocento milioni di euro. Cioè, non un dimagrimento, un razionamento, un salasso che non ha precedenti nella storia italiana, sostanzialmente un colpo alla nuca del sistema universitario. lo devono chiamare riforma e in più i precari, che non sono stati delle figure parassitarie nel circuito universitario, ma che hanno, soprattutto nel mondo della ricerca, hanno tenuto in piedi l'onore e anche la produttività dei nostri latenei, tutti fuori, non c'è salva precari, non c'è salvezza. Appunto, siete ancora una volta, sei ancora una volta, caro precario, l'eroe del governo Berlusconi. L'idea, cioè, che tutto il lavoro progressivamente può precipitare in questa metafora la precarietà, che poi non è per te soltanto una metafora, è una condizione reale. Dopo i tagli alla scuola, 8 miliardi di euro in meno, i tagli all'università, e tutto questo viene presentato nel nome del riformismo berlusconiano. Ecco, caro precario, io penso che oggi dobbiamo guardare soprattutto a te, dobbiamo fissare i tuoi occhi, il tuo sguardo, e capire se la tua difficoltà ad adeguarti a questa realtà è davvero frutto di narcisismo, soprattutto voi precari della scuola, voi precari dell'università, siete un po' intellettualoidi, un po' di sinistra. O se invece, in quel tuo sguardo sbarrato, in quella tua frustrazione talvolta urlata, e in quel tuo elemento di disperazione sociale, c'è un bilancio, un rendiconto, che dice tutta la verità della lunga, fin troppo lunga, affabulazione berlusconiana. Siamo al capolinea di una stagione che ha sfigurato l'Italia, che ha massacrato diritti sociali fondamentali. Il colpo grosso è quello che riguarda proprio la formazione. Precarizzare il mercato del lavoro è rendere precaria la cultura, precarizzare gli apparati formativi, precarizzare i docenti, gli insegnanti, precarizzare gli studenti. È la società della precarietà. Caro precario, io penso che non valga la pena di lamentarsi. Forse è giunto il momento di rivoltarsi.